Il questore di Caltanissetta, Emanuele Ricifari, ha sospeso la licenza per 15 giorni al titolare di un bar. Il provvedimento è stato emesso a seguito dei numerosi controlli eseguiti dai carabinieri del nucleo radiomobile del reparto territoriale di Gela. Il decreto di sospensione della licenza è stato emesso secondo l'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per 15 giorni nei confronti del titolare di un bar a tavola calda che si trova nel centro storico di Riesi. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dei numerosi controlli eseguiti dai carabinieri del nucleo radiomobile del reparto territoriale di Gela, dai quali è emerso che il locale è frequentato quotidianamente da persone con precedenti giudiziari e da soggetti di spicco appartenenti alla criminalità locale. L'assidua frequenza del locale da parte di pregiudicati costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e la temporanea sospensione dell'attività ha l'obiettivo di dissuadere i soggetti interessati dal continuare a frequentarlo. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri della stazione di Riesi in provincia di Caltanissetta.